Un momento bellissimo, nei 70 anni della liberazione, il premio Lazzatio Monsignor Barbareschi, ciò che onora la nostra Chiesa. È uno spaccato di storia milanese, tutta sua personale per la sua bravura, ma perché ci aiuta a ritrovare una Chiesa ambrosiana fatta di preti e di laici, che è stata grandiosa negli anni sotto il fascismo. Pensiamo alle acquele randage che sono riuscite a tenere la loro virtù scout, poi durante la resistenza, ma di questa Chiesa ambrosiana che dalla resistenza ha tratto lo spirito che è servito per la ricostruzione di questa città. Noi purtroppo, negli anni e anche oggi spesso, dimentichiamo il valore di questo contributo laico che attraverso il professor Lazzati ha seminato, ha fatto crescere giovani, generazioni intere e fornisce tuttora a questa Chiesa delle risorse di umanità, di valori, di idealità che purtroppo non sono sempre valorizzate. Ma oggi non piangiamo sulle cose non fatte o che non abbiamo, guardiamo con fiducia e con speranza perché un'altra resistenza incomincia proprio oggi, con il settantesimo, la resistenza per rilanciare questo paese e questa città perché l'Expo da sola non basta, ci vogliono dei valori.